Pippo proviamo? Sì, allora tu che stai al piano di sopra dici a me che sto al piano di sopra Scusi sono le 4 del mattino, ma che cos'è tutto questo baccano? È la registrazione della festa che avete fatto ieri sera Poi non me lo ricordo, devo leggere Pippo prendi il tuo sao Ah, sao caffè Perché io per il caffè ho il naso Fa un caffè e ritrovi la parte migliore di te